Allora, siamo arrivati a questo appuntamento, praticamente il Comune ha giocato tutte le sue carte in maniera abbastanza ottimale, una passeggiata, ci siamo riappropriati di questa stupenda passeggiata, mi auguro che i convenuti abbiano a che godere di questa stupenda meraviglia. Lei come commissario straordinario per la città di Cagliari, in attesa delle eminenti elezioni, ha proprio l'onore, come sul dire, di riaprire ufficialmente questa bella scalinata storica. Sì, è proprio un onore, mi fa veramente piacere riaprire questa meravigliosa passeggiata. Un augurio che si sente di dare al futuro sindaco della città di Cagliari qual è? Io mi auguro che questa passeggiata sia riaperta in maniera permanente, in modo tale che anche la città usufisca di questo bene prezioso che ci appartiene a tutti. Il dottor Bruno Carcangio, il commissario straordinario del Comune di Cagliari, in attesa proprio delle eminenti elezioni comunali, ha avuto l'onore di aprire il video di quest'oggi, Sardegna Live, vi sta mostrando finalmente la storica scalinata del bastione di San Remy, qua in Piazza Costituzione, finalmente fruibile da turisti e visitatori. Lavori che sono durati più di tre anni, proprio per la riqualificazione dell'importante monumento, la pulizia della facciata, ma anche per gli interventi di permeabilizzazione dei soffitti della passeggiata storica. Per ora da Sardegna Live vi mostriamo queste inedite immagini e i cittadini si sono finalmente riappropriati del monumento di Piazza Costituzione a Cagliari.